Un'incornata di tedeschi nel primo tempo e Arrigoni su punizione nella ripresa mandano al tappeto gli isolani. In mezzo un penalty fallito da Raimondi, tanti errori sottoporta di Arrighini e il pareggio di Porcino. E dire che l'avventura in terra campana non era iniziata nel modo migliore. E Lischia, infatti, a spaventare per prima quando su un'uscita troppo frettolosa di Perina, Armeno ha sui piedi la palla del vantaggio, spazzato via da tedeschi. Quasi un gol per il difensore rosso-blu che poco dopo la rete la gonfierà, ma dall'altra parte. Prima il rigore fallito da Raimondi, che fa pensare ad una giornata nera. A rimettere tutto a posto ci pensa Tedeschi, che sul gong della prima frazione ci mette la testa sul corner calciato da Arrigoni e porta i Silani sull'1-0. Risultato che potrebbe cambiare ancora ad inizio ripresa quando Arrighini fallisce una ghiotta occasione per il doppio vantaggio e Canutè, dall'altra parte del campo, centra in pieno il palo con un missile che avrebbe potuto riportare in equilibrio la sfida. Al diciassettesimo è Perina, a negare il pari a Calamai con un intervento prodigioso. Al ventiquattresimo però il pari Ischitano arriva, lo firma Porcino, così. Sembra l'ennesima trasferta a Mara per la formazione di Roselli, che però non demorde. Al trentasettesimo trova il nuovo sorpasso con una punizione magistrale di Arrigoni che fulmina Iuliano e chiude la contesa. Buona la prima del Cosenza. Se adesso i lupi cominciano a vincere anche in trasferta, nessun obiettivo è impossibile.